Anche in provincia diamo sostanza alla nostra grande crescita, peraltro questo gruppo si compone di due autorevoli rappresentanti della politica provinciale, sia Chietina con l'ex assessore Carla Di Biase, sia Vastese con il consigliere comunale Guido Gian Giacomo, già candidato sindaco lo scorso anno proprio contro il presidente della provincia. Crediamo che anche sui temi risicati oggi, ma che potrebbero tornare a essere importanti col PNRR, Fratelli d'Italia possa e debba esplicare bene la sua strategia e crediamo che questo sia il primo passo per puntualizzare anche l'esigenza di una provincia grandissima, vastissima, complicata, complessa e che forse non sempre il presidente Mena riesce a cogliere. Appena terminato il ballottaggio nei comuni di Ortona e San Salvo. Il modello San Salvo, dove il centrodestra va unito, va insieme, va coeso e va sui temi piuttosto che sulle posizioni, funziona ed è questo l'insegnamento che ci viene da San Salvo. A Ortona il messaggio che arriva invece è un altro, che dove il centrodestra si divide, per ragioni che a Fratelli d'Italia sfuggono, evidentemente l'elettore di centrodestra non gradisce questa divisione. Ovviamente noi abbiamo fatto una riflessione al nostro interno, anche sulla forza delle liste, che forse non era sufficientemente adeguata alla forza invece del candidato, che invece è piaciuto, piaceva e anche per rispondere a chi da centrodestra ci accusava di presentare a Ortona un candidato non riconoscibile. Noi abbiamo presentato un candidato invece molto riconoscibile, certo sotto le aspettative con le liste, con qualcuna delle sue liste, ma noi siamo anche lì a Ortona con il doppio dei consiglieri, quindi siamo con due autorevolissimi consiglieri comunali, crediamo che l'opposizione al sindaco sarà rigida, costruttiva.